ci troviamo a località Crapa del Vaia lì sopra da qui partiva la mulattiera militare che dalle zone di baraccamento qua sotto dove c'erano anche le due le tre scusatemi grotte di covero e soprattutto la caserma sotto di Crapa di Vaia qui sopra davanti a noi come vi ho già spiegato c'era la postazione dove c'era la fuciliera o il mitragliatore qua sopra come tutta la salita di questa montagna ma noi affronteremo questa questa mulattiera militare per poi andare a prendere fare tutto costruito di 720 cercare le cose militare 720 fino arrivare ad assomato vederci Bagolino e trovare le cose militari anche lì adesso partiamo e andiamo a visitare questa zona di fronte il primo bivio della mulattiera che noi abbiamo fatto questa qua e poi c'è un altro due mulattiere le più storiche queste qua che hanno coperte dalla zona del nemico e questa qua che saliva verso la vetta di 720 qua queste qui erano le altre mulattiere uno che scendeva da qua come vedete arriviamo al parcheggio di Cimauccia che resta qua dietro la sopra scusate e si andava giù verso la valcamonica e se noi andiamo avanti questa qui invece è una mulattiera alta che dove ho fatto vedere la fuciliere dall'altra parte praticamente si univa per arrivare qua e se noi proseguiamo dalla mulattiera militare più vecchia diciamo delle tre che sono state costruite qua ci andiamo avanti qua davanti Dos Dei Galli che racconteremo la storia della della base e di quello che c'era prima tu calcola un pezzo della della mulattiera di guerra che portava Dosso Matto come vedete qua mentre qua sopra passava la la mulattiera che va su in cima a Dosso 720 che faremo in un altro filmato noi adesso andiamo verso Dosso Matto un particolare della mulattiera che c'è ancora il suo muro secco come vedete e saliamo adesso verso il Dosso Matto si vede esattamente come era la cordatura della strada vedete vedete com'è e qua è stata costruita apposta per poter portare i 149 vedete saliamo e adesso si vede tutto il costone come sale dietro la montagna la c'è ancora il muro a secco visibilissimo e così mi sono dimenticato di spiegarvi vedete qua sopra questa è una delle opere che era un sentiero una mulattiera perché vedete anche il muro a secco che andava qua dietro dove lì dietro se vedete nell'angolo c'è ancora una caverna a ricovero verso sempre il nostro obiettivo il nostro obiettivo si poteva arrivare anche da qua vedete questa è una mulattiera che si staccava passava davanti a tutta il Dosso che noi andremo a fare e si univa alle trincee dove noi vi faremo vedere dopo mentre noi proseguiamo nella strada dei cannoni chiamata così e arriveremo al nostro obiettivo attraverso la strada dei cannoni qua siamo sempre nella bellissima valle fino ad 7 20 qua davanti a noi questo bellissimo la cordatura che rimane ancora della strada militare che stiamo facendo dei cannoni vedete che spettacolo saliamo ancora mi sa che arriveremo la e non vedremo una beata minchia la sopra l'esercito italiano ha usato vedete qua sopra quel buco là come grotta ricovero usava anche i detriti che c'erano qua di marmo e la vedete là sopra che c'è un ricovero proprio lì la sopra l'esercito italiano ha usato vedete qua sopra l'esercito italiano ha usato